Si passa alla fase operativa per l'avviso 2021 ma è già pronto da quello che sappiamo l'avviso per il 2022, parliamo sempre di democrazia partecipata. Esattamente, l'avviso 2022 di democrazia partecipata è quasi pronto e lo pubblicheremo quando avranno avuto compimento le operazioni per la votazione del 2021. Quindi, magari una settimana dopo, quando abbiamo istruito tutte le pratiche, pubblicheremo il nuovo avviso. C'è una grande attesa ai cittadini, commentavamo anche prima col Sindaco Italia, hanno voglia di partecipare ai progetti, al cambiamento, alla trasformazione, a sottolineare magari quel poco che manca in città per poterlo realizzare. Dico sempre che democrazia partecipata è il modo più trasparente che avvicina l'amministrazione ai cittadini. Ovviamente, spesso all'amministrazione delle cose sfuggono, che non sfuggono ai cittadini. E questo è un pretesto per loro per poterceli suggerire, ci suggeriscono delle idee progettuali che poi vengono fatte nostre dai nostri uffici, elaborate e resi veri e propri progetti di fattibilità.